Negli anni 70, quando lavoravo alla IBM di Napoli, accade un fatto curioso che merita di essere raccontato. Ci eravamo da poco trasferiti nella nuova sede di via Orazio ed eravamo tutti felici e contenti per le magnificenze dei locali. Il nostro era uno dei più bei palazzi che dominavano il golfo, primo e ultimo piano, e entrambi a perpendicolo su Mergellina, con un Vesuvio di sfondo così vicino, ma così vicino da dare l'impressione di poterlo toccare con le mani. Un iconeo, l'ascensore moscio, o per dirla in linguaggio tecnico, non adeguato al dinamismo dell'azienda. D'altra parte, l'edificio era stato progettato solo per uso abitativo e non prevedeva quindi un via vai di impiegati. Dopo qualche mese di rodaggio cominciarono a fioccare le prime proteste. Sia gli inquilini cosiddetti civili che i dipendenti IBM erano fuori dalle grazie di Dio. Il continuo andrivieni tra il primo e l'ultimo piano provocava attese interminabili. Ieri, sbraitava una delle segretarie, sono rimasta sul pianerottolo per più di un quarto d'ora. Ovviamente non era vero, al massimo ci sarà stata cinque minuti. Il guaio però è che a lei gli erano sembrati molto di più. Che fare? L'IBM decise finalmente di intervenire con i suoi potentissimi mezzi e creò un'apposita task force per risolvere il problema. Nel giro di un paio di mesi fu varato il progetto SAFN. Secondo ascensore per la filiale di Napoli. E nel frattempo il portiere d'ero stabile, il mitico Don Attilio, fu incaricato dal nostro direttore di rilevare l'entità del traffico tra le 8.30 e le 19. Don Attilio, da buon non informatico qual'era, prese un quaderno a quadretti da poche lire e con la copertina nera e con molta pazienza fece. Un segnetto per ogni individuo che vedeva entrare e uscire dall'ascensore. Per la precisione, una sticella per i civili e una crocetta per gli IBM. Alla fine del rilevamento fu indetta una riunione per valutare i costi dell'operazione e per convincere i condomini, ancora riluttanti, a non opporsi al progetto. Erano presenti tutte le funzioni interessate, noi della filiale, la task force, e Don Attilio, con il quadernetto nero. Si stava discutendo di quattrini e di permessi, quando dal fondo della sala il portiere si alzò in piedi e chiese la parola. «Che c'è, Don Attilio?» disse il direttore. «Dotto, io ci avrei un'idea. E sarebbe?» «Dotto, scusate se mi intrometto, continua a dire il bravo uomo, ma io al vostro posto, invece di spendere tutti questi milioni, metterei vicino al muro ogni pianerottolo in un bello specchio, così la gente si guarda, il tempo passa e nessuno se ne accorge». Fu questa la soluzione vincente. La verità è che siamo tutti un po' narcisi, anzi, quelli non propriamente bellissimi. Ci piace guardarci nello specchio e più di tutto ci piacerebbe vederci in televisione. La tesi che siamo tutti narcisi è bene chiarirlo. Non è mia, ma di Freud. L'inventore della psicoanalisi all'inizio era convinto che il narcisismo fosse solo una perversione. Poi, avendone trovato tracce in quasi tutti i pazienti, gli venne il sospetto che si trattasse invece di una componente comune della psichi umana, Complemento libico dell'istinto di conservazione. Detto Pitta la Terra, ognuno di noi, anche quando ama, pretende di riscontrare nel proprio partner dei segni di credimento. Ebbene, dice Freud, quando ciò accade, è come se considerassimo la persona amata uno specchio dove poterci guardare. Narciso, diciamolo subito, era un po' narcisista. Fin da piccolo non manifestò alcun segno di curiosità verso il mondo esterno. Amici o amiche, non ne aveva. Tantomeno fidanzati o amanti. Ma procediamo con ordine e cominciamo col parlare dei suoi genitori. Una bella mattina la cerulea li riope, mentre prendeva il bagno nuda, fu sedotta dal fiume cefiso in un avvolgente gorgo per dirla con oviglio. E dopo nove mesi, la bella partorita di un bambino che già poteva innamorar col riso e tosto consultò se era destino, che lunghe età vivesse il suo narciso, che dal normollo e a lei sì, l'indovino, se non vedrà, rispose il proprio viso. Tradotto in parole piattuali il giorno stesso in cui partorì narciso, sua madre chiese a un indovino, il cieco Tiresia, quante probabilità avessi segnonato di giungere alla vecchiaia? E lui rispose, vivrà finché non vedrà la propria immagine. O per essere più precisi, sì, se, non, noverit, che significa finché non conoscerà se stesso. Immaginiamoci come ci rimase la povera Liriope, fu costretta a far sparire di casa tutte le superfici riflettenti, e con metalli di specchi, i vetri, le pentole di rame, le laste di argento e via enumerando. Giunto all'età di sedici anni, narciso divenne il più bel giovanotto del paese. Dal monte di cona al mare, dicevano a Tespi, nessuno è pari, in quanto a bellezza al figlio di Liriope, e chiunque lo vorrebbe come amante. Ma il ragazzo, l'abbiamo già detto, non amava il prossimo suo. Lui ben mille garzon, mille bramaro, donzelli a carezzà, ma tal dispetto, in sitenera età, nutre e altezza, che loro voti non ode e li disprezza. Nulli, hillum, ivenes, nulla, tatigere, pullae, come dire che non si filava nessuno, né i maschietti, né le femminucce. Una volta un ragazzo, un certo amminia, gli scrisse un bigliettino, dammi un pegno che mammi, o dolce amico, che senza di te preferirei morire. Ebbene, quale pegno pensate gli abbia inviato, narciso? Una spada, sì signore. Proprio una spada, come a dire ammazzati, tanto io me ne frego. E quello si ammazzò sul serio. Si recò una sera davanti al suo portone e si infilizzò con la spada che aveva appena avuto il regalo, dopo aver invocato però sul capo dell'amato la vendetta degli dèi. Che un uomo potesse suicidarsi perché non corrisposto da un ragazzo non era un caso insolito nel mondo greco. In proposito, ricordiamo uno degli idilli più struggenti di Teocrito, poeta siracusano del III secolo a.C., che ben si adatterebbe a caso di Aminia e Narciso. Un uomo appassionato amava un giovane crudele, bello d'aspetto ma non di cuore. Odiava chi l'amava e niente era dolce in lui. Non conosceva Eros nel suo potere e nella forza del suo arco, nella mare ferita e dentro il petto. Ma l'amore si sa, non si scoraggia per così poco. Puvi inostacolato e più si attizze. Soprattutto passa sopra a qualsiasi difetto della persona amata. Anche così era bello, la sua collera dava nuova passione all'amante, che alla fine non resta la fiamma impetuosa. Andò a quella casa nemica e pianse davanti alla porta, baciò la sua soglia e lasciò che il dolore fluisse. Ragazzo crudile, ragazzo di pieta, implacabile, indegno d'amore. Io vengo a portarti l'ultimo dono, il mio cappio. Non voglio più affliggerti con la mia presenza. Io vado dove tutti gli amanti trovano il farmaco. Il fiume dell'oblio. Seppur, nemmeno accostandolo alle labbra e bevendolo tutto d'un fiato, riuscirei a spegnere quest'amore. Un saluto da Dio alla tua porta. Detto fatto, l'amante si impicca, fisse il cappio alla trave della porta e sale su una grossa pietra. Prima però di dare il calcio alla pietra fatale, così come la definisce Teocrito, supplica ancora una volta il ragazzo crudile. Fammi un favore, fanciullo, in quest'ultima ora. Quando uscirai e alla tua porta mi vedrai impiccato non ignorarmi. Fermati, piangi, solo un istante. Poi staccami dal nodo e vestimi con i tuoi vestiti. E dammi un estremo, unico bacio. Dona per un attimo le tue labbra al mio cadavere. Non temere, io non potrò abbracciarti. E prima di andare via grida forte tre volte. Riposi in pace, mio caro. E scrivo quest'epitaffio. Fermati, viandante. È l'amore che l'ha ucciso. Aveva un amico crudele. Che il fanciullo fosse crudele non ci sono dubbi. Teocrito, infatti, chiude l'indiglio scrivendo. Aprì la porta il ragazzo e vide il cadavere. Ma il suo cuore non ne fu commosso e non pianse. Se ne andò tranquillo alle gare del ginnase. E poi, come sempre, se ne andò in piscina. Più o meno così era anche Narciso. Non aveva amici e non parlava con nessuno. Unica sua passione è la caccia. Ovviamente solo. E stava per appunto cacciando un cervo quando incontrò la bella Ico. Ma chi era Ico? Era una ninfa dei morti. Dei monti. Una delle oreadi. Celebre invece per la sua parlantina. Si racconta che un giorno Zeus, avendo notato questa propensione di Ico per il pettegolezzo, l'avesse spinta a distrarre sua moglie Hera in modo da potersela filare con una sua amante senza essere visto. Tu, disse alla ninfa, racconta le le ultime novità dell'Olimpo. Disse di quella volta in cui Afrodite fu scoperta al letto con Ares. e di tutte le arrabbiature che si prese di Efesto. Insomma, tienila impegnata per un paio d'ore. Era però se accorse che Ico la intratteneva con sua accorta favella finché il consorte con la rival fuggiva. E la volle punire e le mise in mano. Una mano sulla bocca e le torse l'uso della parola. Da oggi in poi le disse, con quella stessa lingua con la quale mi è frastornato, potrai solo raddappiare i suoni e chiudranno le tue orecchie. E non potrai parlare, se non al termine dell'altrui parlare. Povera Ico. Non solo le avevano tolto la facoltà di spettegolare, ma anche di comunicare i propri sentimenti all'uomo che amava. E già, perché nel frattempo Ico si era perdutamente innamorata di Narciso. Come era successo? Beh, per caso. Mentre vagava per le foreste sulle falde dell'elicona. Quando essa lo vide aggirarsi tra i boschi, si accese di tenero amore ed inascosto. Ne seguì le orme. E quanto più gli si accostava, tanto più le si infiammava il cuore, così come lo zolfo che in cima le fiaccole prende fuoco non appena vede la fiamma che gli si avvicina. Poterlo fermare, oh! Potegli rivolgere frasi omorose e sua denti preghiere. Ma come fare a dirgli tutto quello che aveva nel cuore? Lei in pratica era muta, era una che poteva solo ripetere le ultime sillabe che udiva. Ecco, comunque, parola più parola meno quello che si dissero quel giorno, Ico e Narciso. Chi è il coste che mi segue? Segue. Cosa vuoi da me, orribile donna? Donna. Lo vuoi capire o no che voglio restare solo? Solo. Vattene via, ho detto. Vattene via. Via, ripete Ico. E Narciso se ne andò. E da quel giorno Ico, sentendosi rifiutata, avvisse in solitarie caverne, si coprì di foglie il volto rosso e rosso dalla vergogna. E così accadde che la passione e il dolore per il rifiuto ebbero ragione di lei. Cominciò a consumarsi dal di dentro. La pelle le si raggrinzi addosso e nel giro di pochi giorni sparì del tutto. Di lei restò nell'aria solo la voce, o per meglio dire, la capacità di ripetere l'ultima parola che udiva. Ormai Ico era diventato un Ico. L'episodio del suicidio di Aminia e subito dopo quelle di Ico consumatosi per un rumore rese impopolare Narciso. Ma chi si crede di essere questo vanesio? Cominciò a dire la gente. Che possa essere rifiutato al pari di come rifiuta? La voce a forza di circolare giunse agli dei, in particolare alla dea di Ramonte, la terribile Nemesi. E così accadde che un giorno Narciso venne attratto da una limpide fonte situata in mezzo ai monti. Si trattava, racconto video, di un minuscolo lago al quale non si erano mai accostati né pastori, né capri, né uccelli, né fiere. Qui, dall'arsura e dal carciar giallasso, tratto al ber di quel logo il giovinetto per dissetarsi, un di riborso è il passo. Ma un'altra seto in me crebbe gli impetto che mentre Chino a bar prende sul basso, avvisa nell'onda il proprio aspetto, attento il guata, e tanto è rolling ombra che stima corpo una fuggevole ombra. Ma cosa vide Narciso nell'ombra? Per la prima volta vide i suoi occhi e li scambiò per una coppia di stelle, per la prima volta vide i suoi capelli e li trovò degni di Apollo e di Dioniso, e per la prima volta vide le sue ganci ancora in verbi, il collo d'avorio, la tenere bocca, e l'incarnato rosa misto al candore della neve. Ignaro cominciò a bramar se stesso, lodò e fu lodato, desiderò e fu desiderato, e quante volte baciò la fonte ingannatrice, quante volte immersa nell'acqua alle tremanti braccia, pur non riuscendo ad abbracciare la persona amata. Raramente un amante, rivolgendosi all'amato, riuscì a essere più tenero di Narciso. Il giorno in cui si innamorò della propria immagine, sentite quel che fu capace di dirsi. Chiunque tu sia ragazzo, esci dall'acqua e vieni e mi incontro. Perché hai deciso di farmi soffrire? Perché mi sfuggi? Perché fai di tutto per sottrarti al mio amore? Eppure quando ti tendo le braccia, anche tu me le tendi. E quando sorrido, anche tu mi sorridi. E quando piango, anche tu piangi. E mischi le tue lacrime alle mie nella medesima acqua. Da questo punto in poi il mito di Narciso si dirama in diversi finali a seconda degli autori. Proveremo a citarne alcuni. In una raccolta di favore del 200, nota come il novellino. Leggiamo che il molto bellissimo Narciso, abilito dall'inuntività dei suoi sforzi, si lasciò cadere nel laghetto e saluto a noi, vi morì annegato. Anche perché, malgrado fosse figlio di un fiume e di una ninfa delle acque, non sapeva nuotare. Eccovene la versione originale. Narciso fue molto bellissimo. Un giorno abbenne che si riposava sopra una bella fontana, guardò nell'acqua e vide l'ombra su chi era molto bellissima. Incomincia a riguardarla e a rallegrarsi sopra la fonte e l'ombra sua facea il semigliante e così credette che quella fosse persona che avesse vita e che stessesse nell'acqua e non si accorgea che fosse l'ombra sua. Comincia ad amare una moronne si forte che la volle pigliare e l'acqua si turbò e l'ombra sparì ondegli incominciò a piangere sopra la fonte e l'acqua schiarando vide l'ombra che piangia in semigliante siccomegli e allora Narcis si lasciò cadere nella fonte di Guisa che vi morì e annegò. Più fantasiosa la versione di Pausania, l'autore della più antica guida della Grecia sostenne che Narciso in realtà era stato molto innamorato di una sua sorella gemella morta di malattia e che quando si chinò sulla fonte per bere gli sembrò di vederla rinascere. Narciso aveva una sorella gemella in tutte le altre cose simile a lui nell'aspetto così come ambedue avevano simile la chioma e la veste con cui erano vestiti e alla caccia andavano insieme. Si accesa allora Narciso d'amore per la sorella allora quando però la fanciola morì recandosi egli ogni giorno alla fonte pur comprendendo che quella che vedeva altri non era che la sua immagine riflessa era pur sempre per lui un alleviamento alle pene d'amore. Ma torniamo a Ovidio e alla metamorfosi Narciso e disperato l'amore non risponde a un certo punto le lacrime finiscono con l'increspare delle acque col far svanire l'immagine al che lui si mette a gridare fermati non lasciarmi occludere lo sai che t'amo mi si è concessa almeno la vista del momento che toccar non posso nel lamentarsi si lacerò le veste si percosse il petto nudo con le marmore e le mani e un rossore si diffuse sul suo petto percorso insomma per chi non l'avesse ancora capito Narciso si uccise con ogni probabilità infilzandosi con un pugnale si racconta anche che in punto di morte abbiamo ormurato addio ragazzo delle acque addio io mi uccido per te per non averti potuto abbracciare giacché tu sei e rimarrai per me l'unico amore e da lontano si sentì ripetere l'ultima parola amore era Ico che come sempre ripeteva l'ultima parola morto Narciso si udì un funebre lamento erano le sue piangenti sorelle le naiadi che gli offrivano le recise chiome e già pronto era il rogo e già le fiaccole tremavano al vento allora quando il corpo sparì dalle rivi accanto alla fonte al posto suo venne trovato un fiore giallo circondato da candide corolle il fiore nato dal corpo di Narciso venne chiamato per appunto Narciso apparentemente al genere delle ammirividiacee bulbose si presenta in natura a volte giallo e a volte bianco al suo interno ma solo in alcune specie si intravedono minuscole macchie di colore rosso è inutile precisare che per alcuni dette macchie sarebbero la prova che il fiore nacque dal sangue di Narciso ed ecco come il fiore venne raccontato dal marinista Giuseppe Battista fiore dopo la morte egli quinnacque e il fiore ancora di seme del smamante ammira le sue bellezze entro l'acqua si racconta anche che Narciso quando attraversò l'ostige per entrare nell'oltre tomba si sia affacciato nelle acque del fiume sempre sperando di vedersi riflesso ma non riuscì a scorgere nulla dal momento che l'ostige era il fiume dei morti e perciò torbido fangoso privo di qualsiasi riflesso Narciso ne fu contento vuol dire che solo io sono morto mormorò e che tu non sei morto ancora vivi sempre lassù sul monte Licona in quella fonte di acqua limpida nel bosco dei miei sogni grazie a tutti i miei sogni